Benvenuti sul canale I Robo di Megalopoli, l'unico canale che vi va a recensire i Cavalieri Bianchi. Oggi andiamo a recensire il Techman Blade della 3.0 appartenente alla linea RoboDo. Questa linea è stata quella ridisegnata da Kevin Sao, che se non sbaglio è l'head of design della 3.0 e anche se non dice molto come nome, in realtà se non sbaglio ha collaborato a una marea di anime storici, soltanto mai come head designer, sempre come supporto, però è uno che ha esperienza. Comunque, adesso andiamo subito a vedere questo robot. Se vi ricordate su questo canale abbiamo visto anche il Techman Blade della Sentinel, che era carino ma non mi ha lasciato entusiasta. Per cui nel momento nel quale è uscito fuori il pre-order di questo della 3.0, ho preordinato questo e ho lasciato andare quello della Sentinel. In realtà avevo preso anche quello della Sky X Studio, ma era abbastanza terribile, quindi l'ho lasciato, onestamente l'ho rivenduto nel momento nel quale mi è quasi arrivato. Ho fatto una recensione e non l'ho mai messa in video, se qualcuno è interessato nel momento nel quale abbiamo un buco di recensione lo facciamo vedere. Però diciamo Sky X Studio, terribile proprio dal punto di vista della qualità. Però in questo caso parliamo di 3.0. Allora, scusate, vi ricordo anche che settimana prossima faccio uscire la recensione di Diaclone Grande della base. Teniamo conto che sia quella per il raggiungimento dei 500 iscritti, più o meno. Quindi mi raccomando, commentate sotto quel video perché estrarrò il fortunato vincitore del Cybuster colorato da me e poi ve lo spedisco io a casa gratis, non vi preoccupate. Però dovete mettere un commento perché estrarrò tra chi fa i commenti del prossimo video che dovrà uscire penso martedì o mercoledì, quindi un po' prima del solito. Comunque, finita questa digressione lunghissima, avevo aspettative abbastanza alte perché dalle immagini questo, più che il Galient e il Dunkuga, sembrava l'Evangelion. Leva 0.1, quindi insomma, aspettative alte, ma vediamo se le va a mantenere. Iniziamo subito con quelli che sono gli accessori. Allora ragazzi, come potete vedere immediatamente sul tavolo, non c'è tantissima roba. C'è questa borsettina per tenere la gomma, per non farla seccare, però non c'è niente gomma. Questo qui è lo scudo che diventa il gonnellino, è colorato bene, ci sono delle pannellizzazioni. È fatto molto bene, ricorda tantissimo quello del Sentinel, non ha metallo dentro. Questi qui sono gli agganci per tenere lo scudo attaccato al braccio. Si sta che si aggancia in maniera facilissima, non vi preoccupate. Stessa cosa, altro aggancio, altro braccio, se non sbaglio, questo è per potergli far spostare le cose. Allora lancia prima parte, seconda parte, con questo pezzo in mezzo che permette di tenere in modalità la barda, se non sbaglio. Ragazzi, è una soluzione che non gli davo due lire, in realtà è ottime. Attenzione, tutto quanto appuntitissimo. Allora, questi qui invece sono praticamente le branche che ha sotto le braccia. Non hanno avuto la stessa soluzione del Sentinel. Questo qui invece è il filo con quale spara quella specie di roba alla Scorpion, se non sbaglio. Gioiellino trasparente, ragazzi, tutto quanto appuntitissimo, rischiate di farvi male. Questo qua è un pallino per avere il gonnellino sul retro. Abbiamo le manine, che sono migliori di quelle Sentinel, non so se vi ricordate, non mi erano piaciute, perché erano proprio un blocco monoscocca. Non sono colorate, ma sono ultra lucide, con una pasta plastica migliore alla media. Sono più dettagliate delle altre. Però ragazzi, tutto questo robot, sapete che mi sono fatto male prendendolo in mano. È tutto quanto appuntitissimo. Io capisco che siamo collezionisti adulti e quant'altro, però, insomma, è vero... Cioè, non c'è bisogno di farlo, che ci fa i buchi nelle mani. Comunque, un sacco di mani, roba mi ha fatto un po' girare le palle, le mani non sono simmetriche. Quindi alcune posizioni solo con una mano e non con l'altra. Comunque, finita questa breve carrellata degli accessori, andiamo, come al solito, a vedere quello che è il nostro robot o cavaliere dello spazio. È un cyborg? Più un tipo con l'armatura, se non sbaglio. Adesso, ragazzi, andiamo avanti e vediamo quello che è il robot. Il robot è alto 20 cm e più o meno pesa 290 grammi. È rotti, se non sbaglio, poi la mia non è la più precisa delle bilance. Allora, in mano non dà la stessa sensazione del Sentinel. Ve lo dico, scusate, non del Sentinel, non dà la stessa sensazione dell'EVA-01, dell'A3-0. Quelle che potevano sembrare pezzi di metallo su armatura esterna, come praticamente tutto quanto leva, è tutta quanta plastica a contatto, plastica stralucida e colorata abbastanza bene. Ha delle parti di metallo che escono fuori e ha un bel peso, cioè a sostanza, non è come Sentinel, che alla fine sembra una figma in mano. Questo è un robot con del die-cast dentro del peso, specialmente nel bacino. Se gli toccate il petto, c'è del metallo. Mi aspettavo più metallo a contatto, però fa niente. Se uno non è un feticista del metallo, non è un problema. Adesso la testa va su e giù, ha un doppio ball peg alla base del collo e all'agganciamento della testa. Anche delle lucine, quindi non lo forzo troppo sulla rotazione, però arriva dove deve andare. Sfortunatamente non avevo le pile per le lucine ed è un peccato. Adesso vediamo braccio che arriva all'altezza delle spalle. Poi vediamo il butterfly joint dei campioni del mondo. Questo è fantastico, ragazzi, praticamente si estrae la spalla da dietro. Eccezionale. Doppio il snodo a livello del gomito per chiusura quasi completa. Perfetto anche da questo punto di vista. Ball peg in metallo sul braccio. Scusate, snodo sul bicipite. Amo quando mettono i ball peg in metallo. Perché praticamente non si rischia di romperli. Anche se a me il ball peg non piace sulle braccia, sulle mani, ma va bene. Comunque avete visto ab crunch non da ridere. Allora, non c'è il drop della gamba, sfortunatamente. Quindi è limitato dall'armatura alla tecca man blade, che è con queste cose molto alte. Però vabbè, raggiunge e non fa la spaccata, ma ci arriva abbastanza vicino. Snodo a livello del ginocchio doppio snodo. Non ha finezze incredibili, però i snodi sono duri e si chiudono. Cioè, questo è ottimo, ragazzi. Comunque poi c'è anche rotazione su quello che è il quadricipide alto, quindi abbastanza snodabile. Sul piede, punta del piede e caviglia. Allora, ragazzi, vedete sotto, praticamente sulla caviglia è quello snodo duro su una barra. Ok, ecco. Ecco, vedete qui che cade all'indietro, non si fa niente, è abbastanza resistente. Due commenti su... Allora, l'articolazione è molto molto buona. È quella di un buon Sentinel, anche qualcosina di più. Quel butterfly joint è da applauso a mani aperte. L'unico problema è che va un pochettino limitato su quelle che sono le caviglie. Allo stesso problema dell'Ingram, del Patlabar 01. Non ci sono pezzi riciclati, però allo stesso problema e dà un po' fastidio. Comunque, adesso vediamo velocissimamente le gimmick. Però, ragazzi, non avevo le pile, sfortunatamente. Qui si accende tutto quanto. Questi sono i raggi laser che spara dalle spalle, lanciandoli così. Si accendono entrambi. E poi, a livello degli occhi, si accende anche lì. Ragazzi, non avevo le batterie. Prima o poi, su Instagram ve lo metto a un certo punto con le batterie. Non vi preoccupate, però è già più di quello che fa il Sentinel. Quindi va bene così. E poi vedete un pochettino di dettaglietti qui in mezzo. C'è un po' di panelizzazione fatta estremamente bene. Adesso facciamo confronto velocissimo. E lo vediamo subito col nostro Mino Lego. Vedete che è grosso. Sono 20 cm alle orecchie, ragazzi. Di nuovo è più basso. Se non state a tirarlo. Con questo cesso con le ali. Scusate, io più ce l'ho, più mi dà fastidio averlo questo. Con il Galient, che a me è piaciuto molto. Il Galient è più pesante, più grosso. Sembrano fatti da due aziende diverse, onestamente. Però è più snodabile il Galient. Ed eccolo qui con l'Ingram 01, che è quello al quale assomiglia di più. Allora, l'Eva 01 me l'aveva imprestato Paul. Quindi non ce l'ho sotto mano. Il Tecum and Blade Rayobot l'ho imprestato. L'ho imprestato, l'ho venduto a Paul. Adesso, ragazzi, andiamo velocissimo su quelle che sono le conclusioni. Allora, ve lo dico in anteprima. Io da questo mi aspettavo un pochettino di più. Come mai? Perché il Tecum and della Rayobot, della Sentinel, è a conti fatti una Figma. La Sky Studio mi ha fatto schifo. L'Innovation Point non l'ho preso. C'è il vecchio Spec, che a questo punto è vecchio. E poi rimaneva un Model Kit. Veniva facile andarli a battere tutti quanti. E la mia impressione su questo modello è che ci siano andati molto molto vicino. Vi dico proprio i pro e i contro molto velocemente. L'unico contro reale è che praticamente l'articolazione sui piedi e sulle caviglie va a rovinare quella che sarebbe un'ottima figure. Perché è limitata come quella dell'Ingram. Avrebbero potuto risolvere questa cosa in due maniere. O mettendo un'articolazione superiore su quelle che sono le caviglie. Oppure mettendogli un Display Stand. Hanno deciso di non fare tutte e due le cose. E col risultato che per bilanciarlo, mettere una posa Action, per il quale questa figure si presta molto, diventa molto molto difficile. Perché non è bilanciato bene come il Riot, che essendo molto leggero, come lo metti, lo metti sta in piedi. Questo qui, avendo una parte superiore molto pesante, bisogna metterci le mani in maniera abbastanza precisa. Stare attenti. Quindi, per il resto, questo qui è l'unico negativo. Perché è suppositivo, i materiali sono buoni. È colorato abbastanza bene, c'è qualche imprecisione, ma niente che ti fa urlare quant'altro. Me ne sono accorto io, perché praticamente lo vado a vedere con la lente di ingrandimento. L'articolazione è ottima ed è per questo che fa girare le palle la roba sulle caviglie. Perché non si riesce a sfruttarla, perché sennò vola giù per terra. Certo, non è leva 01 della Tri Zero, perché è interessata questa cosa. E non è neanche l'Ingram. C'è metallo all'interno, è buono, è fatto bene, non porta a casa il premio del Tecaman definitivo. Ed è un peccato, perché comunque rimane un buon prodotto. Dal mio punto di vista, è raccomandato rispetto a tutti quanti gli altri. Però poi, con l'aggiunta, che ne potrebbe uscire uno che aggiusta queste due cose e porta a casa il gran premio. Comunque, dai robot di Megalopoli è tutto quanto. Alla prossima! Ciao ragazzi! Alla prossima! Ciao!